Voglio fare un patitino per allenatrice perché in un futuro mi vedo sempre in campo verde, come la chiamo io, e niente, spero un giorno di prendermi ad allenare una scuola. Da grande, non lo so, avendo un papà medico lui vorrebbe che io entrassi a medicina e seguissi il suo percorso, però adesso è molto più difficile entrare nell'università di oggi, quindi vedremo. Tenterà. C'è ancora il morto, andiamo a taxi, questo è il taxi italiano, c'è il tassametro, quello qua, con scritto libero sopra, è a due posti, questa è l'andò a quattro posti, è tagliata in mezzo quindi poteva essere completamente aperta e chiusa, secondo la temperatura. non ce le paga in casa il museo, alla fine è un passeggio a caccio no? il mio sogno sarebbe, innanzitutto vabbè, che voglio prendere l'università, poi devo giudere ancora, però comunque sempre continuo a giocare a pallone, che magari con l'università possa essere anche facilitata, perché io ho molto più tempo su organizzare meglio, e poi magari che lo sancica pure all'estero. mi piacerebbe fare un'università di scienza motoria, che è inerente comunque a quello che faccio, e vabbè comunque rimane la cosa, io gioco a pallone fino a che posso, e magari anche in un campionato estero, dove è considerato di più il calcio femminile. non è stato diversificato solo e oraaltung sì ma whole nottriva anche in un campionato non si r quil戮asse un fornare quanto riguarda tutti, se lavano delle loro termine in Setelato Ogsi, del Spazio del Rossomek. Perle mantenere,